benvenuti ragazzi di inside game subito siamo lì ci vedete siamo a sinistra avete visto dicevo un piedone del sottoscritto che passa avanti alle camera è questo tu hai già scelto la pianta sì sì ho già scelto la pianta siamo pronti per giocare a plants versus zombies apocalypse now come si chiara del warfare garden warfare appunto è una presa in giro di modern warfare perché è uno sparatutto in terza persona alla team fortress che vi abbiamo presentato nella puntata del video blog e che adesso vi faremo vedere in cooperativa modalità orda levati dal cazzo dove dobbiamo andare l'altro peccato che il video non fa perché girano è fluidissimo credibile il cross bite ha detto la pianta allora attenzione la pianta che significa adesso arrivano gli zombie vogliono distruggerci questo giardino a noi dobbiamo difendere dove dove sono l'inizio ecco scritto ora in arrivo tra 28 secondi ma 28 secondi non faccio due palle così tanto spara fai le scoprate davvero ma perché io c'è stato pianissimo si però con il tuo quasi one shot e ho capito che non è scelto di me questo che devo fare no lì non lo puoi usare perché non c'è i piantini vabbè poi c'è il salto e che operazione di occhio quella è la bomba atomica lo sparato però adesso decente se deve ricaricare ok occhio che 28 secondi sono passati i zombie stanno arrivando dove sono ti appare sulla mappa e con la testa di zombie quella rossa e quindi da quella parte arrivano gli zombie non va ne andato o non fa la figura del merda è più che io non mi fa fare figurate allora io ieri ho fatto delle partite online e social a livello di sì ma lo sai che io sono fenomeno questo chiaramente la prima ondata sono zombie ha per la cronaca ragazzi sono quello sopra perché sono già arrivati adesso mi curi no perché non è perso alcuna vita ok peccato perché sennò poi dicono a te eccoli eccoli dove non c'ho la freccia dell'inizio è perché t'ha fatta lezioni porca eva di aria anatomica comunque purtroppo in speed screen possiamo far vedere solamente la diciamo i gameplay delle piante perché gli zombie sono riservati solo al multiplayer online seconda ondata tra cinque secondi e cinque secondi attenzione quanto resisteranno i nostri eroi cioè in due senza power up la vedo veramente dura la verità è quanto tu farai la pippa e non mi farai resistere ecco diciamo ho visti ma se vado faccio proprio il grado se vai e moriamo verso a sembra recupera io deve recuperare la bandiana che c'hanno quelle più forti occhi alla nuve la nuve fa male intanto ti sto curando io tiro l'atomica no aspetta la mia tirava quando sta o guarda ci si scordano sempre che c'è gente che c'è magna e tirato in mezzo al cormucchio sì 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 mamma mia ma dato il sacco di volete dove c'è il punteggio dove dove posso visualizzare in alto a sinistro molto più forte si diciamo anche io una telecamera davanti a questa mia maria vogliamo dire attenzione un altro che abbiamo messo la tenere il nostro monitorino in un punto dove ci sono delle informazioni quindi lo sposto seconda terza ondata da tre secondi e cominciano a essere tra un po arriva lo zombie boss che è quello che balla che è un casino tra l'altro le informazioni che c'erano lì erano relative alla mia vita che capire i nostri ascoltatori hanno molto a cuore c'è sono tutti interessati a sapere quando è che akira fa la cazzata questo qua veramente c'è il fatto diciamo la cosa figa è che io ti posso curare ma non posso curare me quindi io sto a 50 di vita ma tu sei a 120 sicuramente come tu vuoi io muoio e come tenere a non c'è qualche cosa per fare c'è non è di parte medica e il pianta kit servono se tu sblocchi le figurine giocando online puoi farti aiutare dai fatto però che non abbiamo mai giocato online perché la tua console è vergine compiante contro zombie non ci abbiamo il pot comunque ragazzi 20 euro 30 40 euro insomma comunque meno di un gioco normale tra virgolette è una figata pazzesca non ve lo fate sfuggire veramente graficamente è pazzesco se sembra una stupidaggine usa il frostbite rivoluzione usa il motore di battle fine esattamente dagli stessi intanto a me che fanno bene ecco eccolo ecco ma fanno vedi qualcuno che ti serve qualcuno che sempre io ho tirato una domica gravi sentivo che c'era un momento che ha fatto mille il testo cura questo anche con l'altro potere reale l'atomica ogni ogni personaggio ha tre abilità speciali solo che sono sbloccate solamente hanno davanti che palle vabbè insomma questo ovviamente è una partita poteva fare appena ha comprato il gioco si potete dimostrare di essere meglio del vostro amico come io sono dimostrando in questa partita contro il palo dove il punteggio dell'ho già chiesto se mi dai tempo che ammazzo i nemici che è lo scopo del gioco possiamo guardare anche il punto che vogliamo mandare a puntare una partita per vedere se tu stai vincendo ma io immagino chiaramente io sto dicendo se tu stai vincendo che c'entra la mia una classe di supporto se la mia classe di supporto è quello che mena ma il mio spara una piantina ogni borda speciale la brigata scervellata che qui soccati eccola eccola la eccola la eccola la questi fanno male questo mattina veramente ha tirato occhio una nuova libera 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 di loro a città dove spara io per guardare lo schermo tu ogni tanto mi piace non lo fanno io non devo ricaricare si è la prima volta che mi sono ricordato adesso che si doveva ricarica quindi ricarica automaticamente sì quando finisce quando finisce sto 68 12 curarmi perché io non posso curarti a ostranza a un certo punto devo ricaricare il potere quindi ti giuro sempre quando vale la pena vale sempre la pena curare non è noto per 100 questo che è il soldato ammazzato io sto diciotto dei vita sto morire variate preparare a rianimarmi sono morto sono morto sono morto devo fare i venitori sono morto ecco la domanda mi vengono qui ce l'hai ce l'hai che la numero sono stato rianimato che non c'erano ai muse curano via via e muse a 50 tu pensi ma perché non vedo l'orda non arriva ecco lì oddio non ho fatto la mia capacità di mira guarda senza giocare a giocare il fagiolotto guarda che ho forte perché qualche anno ha provato ho preso io perché potete ripeterci la sole perché non abbiamo registrato con l'america serata in cui abbiamo giocato al super mario ma non ho preso mario che è il più forte dicevi che era più forte la serata in cui abbiamo giocato a super ma ricorda che è solo presente massimo sono stato veramente un fenomeno ecco 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 boss 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 e c'è detto che non lo superavamo scommetti vediamo subito la domini vediamo il boss occhio occhio ora ci vuol dire qual è il boss il boss è lo ieti lo ieti lo zombie ieti noi andiamo addosso aspetta che arriva e poi tirai l'atomica su si 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 non ti preoccupa eccolo la lo vedo è enorme è enorme perché io non lo vedo perché non ti stai scorgendo dal lato giusto questo congela ma c'è che cosa stai arriva arriva un po' arriva tutto oddio oddio a quelli scoppi e tirano i figli della domenica congelato forte del mondo perché sono più forte del mondo visto che stai di maestro come stagione a sto fatto in un ma che si è arrivato lo seccato tutto grazie a me ma che hai seccato pure ma sono morto corri lo pensino di che stavo sparato ma che cori 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 di anima è fatto un pezzo non sta capisano devi ricominciare non sta capire ecco ti ho visto quindi finita l'orto boss ok grazie a me ragazzi potete aver visto tutti grazie a chi era ricordato il nome a chi era scrivetelo sul taccuino sul diario sono stato io non è stato con il master abbiamo portato a casa il risultato e questo è tutto da inside the game per quanto riguarda plans verso zombie annihilation warfare